bello a tutti i lupacchiotti chi vi parla è il vostro LedeWolf e benvenuto in questo nuovissimo video che cavolo ecco per un attimo mi si era smingiata dalla carta comunque lupacchiotti benvenuto in questo nuovissimo video come potete vedere siamo tornati qua su o bai e scioccoli oggi ho avuto la città con la città Steinmann ha detto che sono qui per te liberi da la tyrannia della comunità sono qui per te mostrare un nuovo tipo di bellezza ho chiesto la città che significa che città 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 come ho detto siamo qua su aia su bai e scioccoli e vi chiedo scusa se in questi giorni non sono d'accordo da qui e città e ho avventi che siostrano è a Siamo riusciti, comunque chiedo scusa a tutti quei lupocchiotti per non esserci stati questi giorni ma diciamo che la giornata è stata molto, questa giornata è stata molto, molto, molto pesante soprattutto perché come sapete come sapete mi spado a me, se è stato brutto che mi spado a me, se è stato brutto, cosa sarà brutto e quindi diciamo ci sono stati anche problemi di grafica, problemi di connessioni internet ho avuto moltissimi diciamo problemi questi ultimi anni ma è molto bello, non ho avuto quel punto lo arresto, non c'è un rinforo, non c'è un ruolo sono un ruolo, non c'è miseria non c'è un messaggio Come stavo dicendo, ho avuto problemi con la connessione, ma appena si si insiede, vabbè, si sistemerà. Questo è troppo simmetrico e ora, guarda che c'è, un intruder, è uccidio, uccidio, uccidio! Guarda te, edio! Un pazzo, un pazzo letteramente, lo sai, scelerato, faccio scelerato. Oh, 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 oh! Non c'è ilo, non c'è ilo! Gabbana, non c'è ilo! Tu as? Mi sono... Ok, son, non c'è un po' che... Si, sai vedere, io non ho quando ho, tu ne ho, ne ho sì. come si so dire in questi giorni ho avuto questi problemi ma sono riuscito anche a trovare dei nuovi giochi da portare sul canale e vedo appena si sistemerà la connessione e di iniziare a portare qui non lo va non lo va come si vede... dovevo uscire... dovevo provarlo... vai... vai... vabbè fa un culo E' bello però, la capolata è questa, dai, cosa è successo, perchè sto volando, perchè sto volando? Poveri criste, se possiamo dire giusto, che paura, che paura, che paura, che paura, che Sto volando? Yes, run you cow! Come for me now! Come here now! It's not going to be my time, you're going to be my old son! Where did you go? Hang around, Parasite! Come here! I'm sorry, po' che... I'm sorry, I'm sorry. ...dialate! Chiuletal! Bullet, a little light? At surgical savings, we'll happily work out an affordable payment plan for any major procedure. Potentially terminal illnesses won't wait until payment. The world's fastest-grown, Pilot Junk. Oh mio dio It's a little one Here's your chance to get some Adam It's just you And me And all of the tasty Adam I can drink Stay away from her Or it is you who will be shot next Easy now doctor He's just looking for a wee bit of Adam Just enough to get by I'll not have him hurt my little ones It's okay lad That's not a child Not anymore at least Dr. Tenenbaum saw to that Bitter do not hurt her Have you no heart Aye that's a pretty sermon coming from the girl Who cooked up them creatures in the first place Took fine little girls And turned them into that Didn't you? Listen to me Brian You won't survive without the Adam Those things are carrying Are you prepared to train your life The lives of my wife and child For Tenenbaum's little Frankensteins? Here There is another thing Use this Free them From their torment I will make it to be worth your while Somehow Allora qui Ora ci viene da da nascita Qua adesso ci viene da da una scelta Ci viene detto Scegli se salvare o eliminare la bambina ovvero la la little sister questa scelta diciamo che andrà molto a cambiare il finale cioè poi vedrete ecco qua ci viene detto cosa, ci viene detto cosa fare ovvero scegli se salvare la little sister o diciamo di usarla se la useremo avremo l'Adam al massimo ma non sopravviverà al processo mentre se la salveremo avremo meno Adam ma Tenem ci permetterà che non ci farà fuori e siccome ve lo dico con cuore, io sono una persona che veramente c'è il cuore che è grandissimo cerco di no, 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 no thank you thank you thank you Il passato dei diritti non è sempre più facile, ma una volta che ti lo vai a cercare, be patiente. Make sure you pick up a new plasma or two. That's if the price ain't too dear of course. My daddy's smarter than Einstein. Struggled in Hercules and lights a fire with a snap of his finger. Are you as good as my daddy mister? Not if you don't visit the gatherer's garden you aren't. Smart daddies get splice at the garden. Not only are those little girls veritable atom factories, they're nearly indestructible. They regenerate any wounded flesh with stem versions of the dead cell. But their relationship with the implanted slugs is symbiotic. If you harvest the slug, the host will die. So you see, it's not like killing, Tenenbaum said. It's more like removing a terminal patient from life support. Oh, my God. Praticamente, quello che ha detto questo qui è che il... che fa... diciamo, far fuori queste ragazzine era come se... per dirlo giusto, era come se... venisse staccata la spina a un... a un palermo del finale, quindi... immaginatevi cosa avrebbero, cosa hanno passato moltissimi di queste creature. o comunque i che Grazie a tutti. 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 No. 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 a un bichetetto diciamo quando a un bichetetto che morivano erano le nostre storie questi qua diventavano le scuole di usci vuoti che non avevano più le scuole perchè per loro non avevano più le scuole le litte assiste quindi molto molto e poca miseria però alla fine sto riuscendo a far fuori sto e comunque continuiamo a parlare questa cosa venne riportata e si scavrirà anche se a un bichetetto 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 ragazzi fermali a un bichetetto 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 di a un bichetetto a un bichetetto a un bichetetto a un bichetetto eh no e dai ti modi la stessa cosa no vai vai ai ai ma lasciami stare che t'ho fatto ma non ci voglio credere che mi stai dicendo che devo cambiarle e fuori e sfraghi il fuoco addosso a picchino brucia a capo ma perché ti ho fatto di male e che 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 qui che che sull'acce bubo bubo come si non è mai ma bubo bubo anche se mi feria che dice tutto qualcosa ma ma E died for your sins, heretic! Sì! Sì! Oh god! Oh! Sweet! Go your way! Leave me to my memories! I can see the angel! Dancing in the sky! Ah! Lovely? It's me! It's... I'm probably the other one! No! Help me, Mr. Ballos! Help me! I can't even think of the crazy girl! I'm the only one to go! Thank you! Thank you, Mr. B! Hey! Okay, let me go! I'm gonna do it! I'm gonna do it! Thank you, Mr. Ballos! Thank you, Mr. Ballos! I'm gonna do it! Thank you, Mr. Ballos! And that's because they put everything we work for in risk. Imagine if the Soviets fat out about our wonderful city. Or even the US government. Our secrecy is our shield. A little capital punishment is a small price today to protect all our freedoms. We thought we could hide from the light down here. We were wrong. Come on! The Lord! I heard it jump. I said you'd go in! No! Stop! It's me! It's Momma! I'm on your bed! Oh! Are you the one that took my baby? Ah! Cust me you in the city! You could have spotted any, I said! Ha ha! My little idiot! I sent you another one, my lord! Ha ha ha! Feel your cravings If you want to see this sound! It's Madae! 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 Sorry! I will visit You could be able to run You've got me to fix half of whatever When a Trans indispensation i have mercy on them You're welcome! Once again Awイ wake up! глупous Well now Arig? There Per poco, per poco non ci sono riuscite, per poco veramente non ci sono riuscite. Come qui, veloci! Volevo scusare! Non ci sono! No, non ci sono! Ehi, ma tu vedi che sto facendo una cosa a tutti i centri? Ma no! Ma che stronzo, ma non riesci da facciare. Arriva un pezzo di merda come quello. You shall know I am the Lord! I can hear the slap, slap, slap of an angel. I can hear the slap, slap, slap of an angel. Ma che merda, non mi mi cosi! Ma dai, ma che se stai mai. Ma che sono a disperare? Ma che sto facendo una canina di rinchiare a te 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 a te. ma che pensiamo di freddo? ma che pensiamo di freddo? ma che pensiamo di freddo? ci sono scoperte non mi vuoi non mi fa non mi vuoi non ci sono scoperte no non mi vuoi ma che pensiamo di un'altra wanted non Ok! Ah! Vai! 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 Mioori! Mioori! Ma perchè? Mi dite che ero partito così bene! Senti, sento sempre queste... Che vaffa frega! 40 corpi! Niente cosa, vado a... Mi sembra di andare a combattere... Ma perchè? Ma perchè? Ma perchè? Ma perchè? Ero riuscito ad arrivarci! Ero riuscito ad arrivarci! Ero riuscito ad arrivarci! E mi ha staccato la registrazione! Ma dai! Ma dai! Cioè io devo ammazzare i big daddy per salvare la creatura! Perro! Perro! 1945! Corri! 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 Vieni! Vieni, 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 vieni! Oh! Cosa vuole saprire? Poi cosa? Apri...apri la pistola! Piri che affa la pistola! Piri che affa la pistola! E non lo so! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Eh, se adesso, questa cosa... C'ho il culo! Quello dovrà passare da lì! Sfiri, guarda che culo! L'ho fregato! E ora lo strozzo, mi piace, che lo strozzo! Lo strozzo! Dora passare da qua! O dovrà tornare indietro! I wore it for you, father! Not a damn thing! No, 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 no! Io ero bene lì, stavo mettermi i miei calzini, ma no, non è possibile farmi i miei calzini. Ho visto e considerato che da stronzo che sono sto cercando con tattolora, maledettamente, di riuscire a portare avanti questa cosa, no, non può essere. Il cazzo me ne sta frega, guardatemi, che ne so. Dove c'è una casa? Vedete un po' cosa? Oh, 24 colpi, meglio di niente. Se Dio me la manda buona dovrei riuscire a far fuori quel cavolo di cose. Se Dio me la manda buona, Dio si me la manda buona stavolta. Io sono pronti per il tempo del sogno. Oh! E dai! Fa fortissimo! Mi faccia quel cazzarola di cosa! Ma questo fa proprio ci venire da vomitare a far avanti dietro questa cosa. Questa ha fatto che c'è una scolpa... Si! E qui ha fatto la scolpa. Non è una scolpa. Non è una scolpa! Ah! Ma come questo che ho fatto, invece! E qui c'è una scolpa! Come questo... Ma questa scolpa! È ciò che abrahamento vorrei! E poi, come se lo conoscire, Ma questa scolpa! Ma questa scolpa! No! Oh, questo non è l'idea di un po' di calma. Questo si va a continuare e a continuare. Quanti catassi sono iniziati con le parole, pensi di te sei. È il reso e il città che ha piaciuto la torta di destrazione. È questa grande inversione, questa antica vita che ha cambiato l'umanità in un ciclo di risposta e impegni di intervenire eh! no no voglio bene assolutamente questa cosa ah! perché non manda a vedere mio momento di risposta cosa ho fatto di male provo brucia quale vissi che ci si glò che ci si glò che ci glò che ci glò che ci glò che ci glò E ciò che lo soggiorano? Sì, è vero. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. no Oggi...dì sotto sto strozzo... ...è andata a fa un culo... ...è...dove nel testo io... ...dai...dai stai...dai stai...dai...dai stai...dai 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 stai...dai... grazie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info ... ... ... ... ... One day, the gentleman stopped calling. Atlas Radio'd on ahead! Says you were here looking for an invite to the petriseries. Nuts, I say. But if you head up to the warp master's office and find old Peach a research camera, maybe I could manage an invite. What was that? My friend, you are... My nose! I want it back! I want it back! No! Come back to me! Can't we be together? Can't we? I'm not finished yet! You hold it tightly. I'm sending something first to watch over you. I bleed! I bleed! I bleed! That means too tough for you. Look on the conveyor belt. You'll find something to keep you alive. Now, go get that camera and then snapshots of those that crawls on the ceiling. Then, I'll let you into the fisheries. Just remember, Sully friend, I swear to Fontaine on you, and I'll have you in a box. Atlas gives you the vouch. But I ain't turning my eye just on his say-so. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Jumping the ghosts! Jumping the ghosts! Ah, here! Fontaine's dead! And everybody knows this! In the ground for months, and half the place still jumping at his shadow. Christ, even Ryan! You never mind all that. We got work to do. ... Rupocchiotti! Spero che il video vi sia piaciuto! Prima di cosa di andare, faccio un salvaggio qui. Sopra scriviamo perché non voglio tornare a fare una... letta a sgraziare la casa che te se frega! E niente Rupocchiotti, spero che il video vi sia piaciuto! Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace! vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, a attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a condividere i video con i parenti, i nipoti, chi ne ha più ne metta, vi invito anche a lasciare un commento, a passare sui miei video social e a passare anche sul mio canale dove troverete tanti nuovi video. Piccola nota di informazione come già detto all'inizio video, lo sabato se tutto dovrebbe andare bene, quindi dovrei andare a trovare un altro amico mio youtube a un paese vicino al mio e possibilmente uscirà un video in cui proverò per la prima volta il visore per la realtà virtuale. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!